Prima di andarsene di casa, mio padre disse a mia madre che ero brutta. Che aveva visto adesso nella mia faccia che io non vedevo? Cosa mi stava succedendo? Sono tale quale a te. Per loro tu sei brutta, sei tattiva. Si può diventare una femmina? Zio, ma perché hai detto una bugia? Perché era bella. E che nessuno si è mai curato di concludere. Così non ti pierdo. Papà e pure mamma pensavano che mi sto succedendo. Sta facendo la faccia di mia sorella. Ma che dici? Quella è un mostro. Vittoria. Era brutta. Era bella. Ma quale braccioletto? Mi ho spiegato al giro di alato come sei nato. Gianni, guardali, guardali bene i tuoi genitori. Sono Giovanna, zia. Staci che sei. Entra. Gianni, ma non te lo hai messo il braccioletto? Se vuoi crescere devi fare capeccesso, che la fa male. Io mi sono ritrovata dentro una storia che non era la mia. Che non è mai davvero cominciata.